Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo In questa puntata faremo la recensione di GPRS Monitor Un'applicazione assistente per i dati a consumo che esistevano molto tempo fa Infatti adesso sono praticamente tutti dati ad abbonamento Quindi ad esempio ci danno 2GB al mese per 10€ Invece una volta esistevano i dati a consumo Quindi di conseguenza per avere internet bisognava pagare quello che si consumava Ora avviamo la nostra applicazione L'applicazione veniva visualizzata in questo modo Veniva visualizzata attraverso questo grafico Infatti attraverso questo grafico sapevamo proprio precisamente quanto consumavamo al giorno Ovviamente non esisteva ancora la connessione in H, H+, oppure LTE Ma esisteva la connessione EDGE Quindi la connessione E Molto conosciuta come E E praticamente si viaggiava massimo a 32KB Infatti come vedete la tabella arriva a 19,5KB Credo che sia il limite massimo in questo dispositivo Però va bene Allora iniziamo innanzitutto a capire come funziona Poi questa applicazione la potete trovare nel link in descrizione Questa applicazione l'ho presa direttamente dal disco di questo HTC Che ho trovato all'interno della scatola All'interno delle opzioni ci troviamo le varie impostazioni che noi dovremmo andare a impostare Come il costo mensile, il traffico incluso e il costo del tariffario supplementare Quindi di conseguenza noi andavamo a impostare ad esempio Che volevamo spendere massimo 20€ del costo del nostro abbonamento su uso del traffico E per 20€ ci davano circa 500MB Di solito era così mi pare Un qualcosa del genere Il costo del traffico supplementare è 1,9 Qua in questo caso non è proprio 1,9 Ma se la matematica non mi devo sbagliare Dovrebbe essere 2,5 Un qualcosa del genere Comunque 2,5 centesimi al mega Quindi in teoria noi impostiamo 2,5 Poi dettagli Prezzo Qua dovremmo andare a impostare il profilo del nostro dettaglio della nostra tariffa E di solito veniva fornito tutto con l'azienda con cui si era già impostato il cliente La connessione poi bisogna attivare il monitoraggio Perché se si spegne poi non tiene più conto dell'utilizzo Avviso giornaliero Questo ci permetteva di sapere in caso che noi superavamo la soglia giornaliera di utilizzo Perché dopo che abbiamo inserito tutti questi dati Lui sa quanto dovete sprecare al giorno In modo che non ci siano fuori uscite E quando succede potevamo anche decidere di staccare internet in automatico Avviso mensile stessa cosa Icona Possiamo mostrare l'icona che vogliamo Quindi l'icona sopra in alto del nostro dispositivo Poi tornando noi anche pop up Possiamo far uscire un pop up delle statistiche ogni giorno In modo che così ci permetta di avere il traffico sotto mano E una volta fatto tutto ciò Avevamo praticamente pronto il nostro dispositivo Come vedete con tabella degli euro spesi Infatti come vedete c'è proprio scritta la varia tabella Il traffico dati E poi avevamo il traffico mensile Ci mostrava il traffico mensile attraverso l'istogramma Il traffico settimanale E il traffico orario Quindi attraverso i 24 ore Quindi un giorno Comunque una volta fatto tutto ciò Sul nostro display veniva fornito anche questa barra Che adesso vi mostro Allora Come vedete c'è scritto giorno 0 byte Euro 0 0 0 kilobyte Praticamente questo ci permetteva di avere proprio la gestione sotto controllo Questo era il programma SPP GPRS Monitor Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video Intanto vi mostro che apparsa Scusate Che apparsa anche l'icona in alto del nostro dispositivo Come vedete è qui in alto Quindi sappiamo anche il traffico giornaliero e altro Infatti ci mostra anche cosa è stato utilizzato Cioè 10 kilobyte E ci mostra praticamente tutto Poi ci dà anche questo strumento per alzare e abbassare la luce E vedere la durata della batteria Molto semplice e molto veloce Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video E ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo Ciao ciao